Si va verso la chiusura dell'intera procedura per l'avvio dei lavori del secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia. A fine mese è fissata la conferenza di servizi. La convocazione è stata emessa e trasmessa a tutti gli enti competenti sui pareri. Il progetto di riqualificazione prevede inoltre la demolizione degli ex-lead in disuso Eden e Conca d'Oro. Ci sono tutte le coperture e l'intervento rientra nella linea di rigenerazione urbana. L'amministrazione comune ha sostenuto il progetto, di fatto recuperandolo dopo il taglio del finanziamento dei fondi di Patto per il Sud. Di recente è stato garantito uno stanziamento ulteriore da circa un milione di euro per i costi correlati alle demolizioni dei due vecchi lidi. Il sindaco Lucio Greco e l'assessore lavori pubblici Romina Morselli hanno sempre individuato il progetto come prioritario. È stato superato qualsiasi ostacolo generato dalla crisi finanziaria del municipio e dalla necessità di variazioni di bilancio. I costi della demolizione non saranno nuovo indebitamento perché appunto coperti da uno stanziamento regionale la conferenza di servizi dovrà solo finalizzare e chiudere l'iter per poi procedere con la gara d'appalto. L'investimento pubblico è di circa 5 milioni di euro e andrà a correlarsi con gli interventi sull'ex dogana. Si tratta quindi del completamento del progetto complessivo che tocca proprio il lungomare. Rimane invece da definire il destino dell'ex pontile sbarcatoio ritornato nuovamente al centro di diverse polemiche a seguito soprattutto dell'interrogazione di recente presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia.